Allora direi che possiamo iniziare, quindi grazie ancora a tutte le nostre amiche, a tutti i nostri amici professionisti, grazie ai colleghi. Io naturalmente vi invito a rivolgermi nel corso della trattazione qualsiasi tipo di domanda, di intervenire con qualsiasi tipo di spunto, di curiosità. Io nel mentre visualizzerò le vostre domande, i vostri interrogativi, via via andrò a replicare. Oggi parliamo di un contenzioso che tendenzialmente è gemello, perché ripercorre le stesse tappe procedurali. Il contenzioso innanzi al collegio di garanzia dello sport e innanzi al collegio di garanzia dello sport paralimpico è pressoché regolamentato dalle medesime dinamiche, è retto dalle medesime forme procedurali. Però cambiano naturalmente le norme, perché sappiamo bene che l'ordinamento sportivo in senso stretto ha delle proprie fonti peculiari, così come avviene per l'ordinamento paralimpico. Quindi io vi segnalerò nel corso della trattazione le varie norme di riferimento per l'una e l'altra procedura, ma con la consapevolezza che affronteremo tendenzialmente una medesima argomentazione, affronteremo una medesima strada divulgativa e conoscitiva. Partiremo dalla giurisdizione, poi vedremo le varie fasi in cui si articola il procedimento, fasi che io stesso ho voluto scambire, ho voluto individuare per comodità di analisi e di studio. Quindi ho suddiviso tra fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisoria. E poi vi sarà una chicca, questa sì soltanto relativa alla procedura innanzi al collegio di garanzia dello sport, in particolar modo parleremo di arbitrato per le controversie tra federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, di cui si occupa principalmente il collegio di garanzia dello sport. Non abbiamo una subprocedura, un subprocedimento analogo in seno al collegio di garanzia dello sport paralimpico. Questo per una scelta dell'ordinamento paralimpico, non certo per una disattenzione, ma per una precisa e mirata consapevolezza. E allora detto questo iniziamo proprio dalla giurisdizione e vediamo che cosa materialmente fa il collegio di garanzia, tanto quello dello sport in senso stretto quanto quello dello sport paralimpico. D'ora in poi parleremo semplicemente per comodità di collegio di garanzia. Parliamo dell'organo di giustizia sportiva di ultimo grado e ciò può evincersi quanto alcuni dal combinato disposto del secondo comma dell'articolo 3 del codice di giustizia sportiva e del comma primo dell'articolo 12 bis dello statuto dello stesso comitato olimpico nazionale italiano, quanto invece al comitato paralimpico dal combinato disposto del comma secondo dell'articolo 3 del codice di giustizia sportiva e del comma primo dell'articolo 12 dello statuto del medesimo comitato italiano paralimpico. Ordunque il collegio di garanzia rappresenta una novità nell'ambito dell'ordinamento giuridico sportivo, perché precedentemente esistevano due organi di vertice, sicuramente li ricorderete, ovvero sia l'alta corte di giustizia dello sport e il tribunale nazionale di arbitrato per lo sport. Quali erano però i limiti, quali erano però le contraddizioni di questo sistema? Beh, la contraddizione da cui poi nascevano tutte le problematiche applicative importanti riguardava la perfetta alternatività tra i due organi. Quindi, organo di vertice era tanto l'alta corte di giustizia dello sport quanto il tribunale nazionale di arbitrato sportivo. In effetti esistevano dei criteri per distinguere le competenze, per distinguere i limiti della giurisdizione, ma questi criteri non erano del tutto chiari, non erano del tutto agevoli. Quindi, laddove si sbagliasse, ed era molto frequente purtroppo, l'individuazione dell'organo di vertice in realtà munito di giurisdizione, si commetteva un errore, uno sbaglio, che poi pregiudicava inevitabilmente la tutela effettiva delle ragioni del ricorrente, perché di fatto la sanzione della scorretta individuazione dell'organo effettivamente munito di giurisdizione era l'inammissibilità o irricevibilità, che dir si voglia, del ricorso. E quindi era la sanzione rituale massima, la sanzione rituale certamente più devastante, potremmo dire, dal punto di vista professionale, che si potesse ricevere. E quindi, nella consapevolezza di queste problematiche, che si sono poi verificate molto spesso, il disegno riformatore del CONI, ma in generale il disegno riformatore dell'ordinamento derivativo dello sport, ha inteso spazzare via questi due organi sostituendoli con il solo collegio di garanzia dello sport, che naturalmente è un organo di legittimità, potremmo dire, un po' mutuando la terminologia processualistica ordinaria alla quale siamo ben abituati. Perché parliamo di un organo di legittimità? Perché al di là delle funzioni consultive che vengono comunque esercitate, quindi anche un organo di ausilio, se vogliamo, esso si occupa di quelle violazioni di norme di diritto, nonché di quelle pronunce che sono affette da un vizio di motivazione, motivazione omessa o insufficiente, circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa fra le parti, in ordine alle decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dei singoli ordinamenti federali, ed emesse dai relativi organi di giustizia. Naturalmente non dobbiamo pensare ad una competenza generalizzata, non dobbiamo pensare ad una competenza illimitata, perché sono escluse tutte le decisioni in materia di doping o quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a 90 giorni o che abbiano una caratterizzazione pecuniaria sotto i 10.000 euro. E questa disposizione fa molto discutere tuttora, lascia molte perplessità sul terreno, potremmo dire. Perché? Perché un po' si ritiene che le decisioni tecnico-sportive meno incisive, meno rilevanti, rimangano prive di una tutela di legittimità, di una tutela verticistica nell'ambito dell'ordinamento sportivo. Però questa è una scelta di politica del diritto, per quanto possa essere contestata, per quanto si possa magari anche giustamente polemizzare. In quanto non esiste in nessun elemento dello statuto federale, del CONI o del Comitato Italiano Paralimpico una norma di chiusura, una norma di garanzia, se vogliamo, che preveda in ogni caso, sempre e comunque, un organo di legittimità, preveda una giurisdizione di legittimità per le decisioni definitive all'interno delle singole federazioni, delle singole discipline sportive associate. Quindi la decisione che venga definitivamente resa in ambito federale e fuoriesca da quei limiti, ovviamente eccezion fatta per le decisioni in materia di doping, può essere validamente censurata, ma il motivo del ricorso deve essere specificamente un motivo di legittimità, quindi violazione di diritto, omessa o insufficiente motivazione. L'accertamento di fatto però non va esente da censura nell'ambito del rinnovato sistema della giustizia sportiva di ultimo grado, perché esso potrebbe essere oggetto di valida impugnativa, potrebbe essere ben contestato nell'ambito della giustizia di carattere ordinario, quindi della giustizia amministrativa, anche perché poi fuoriuscendo dall'ordinamento giuridico sportivo individuiamo una competenza esclusiva di merito del giudice amministrativo come previsto naturalmente dal decreto legislativo 104 del 2010. Vi dico anche, sempre rimanendo nell'ambito della giurisdizione degli organi, dovremmo dire, di cui stiamo discettando, che esiste una competenza transitoria del collegio di garanzia dello sport, parliamo quindi adesso specificamente del CONI, del Comitato Olimpico, quindi dello sport in senso stretto, a norma del disposto dell'articolo 65 del codice di giustizia sportiva del CONI, in quanto questa competenza transitoria è relativa alle controversie che dovevano essere in realtà destinate al Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport o all'Alta Corte di Giustizia Sportiva e poi ora vengono invece devolute, stante l'abolizione di questi organi di vertice, al Collegio di Garanzia dello Sport. E non di meno, ai sensi dell'articolo 54,3 del codice di giustizia sportiva, tanto del CONI quanto del Comitato Olimpico, il collegio può giudicare nel merito le controversie adesso devolute dalle altre disposizioni del codice medesimo, nonché dagli statuti e dai regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali definite d'intesa con il CONI o il Comitato Paralimpico. In quel caso il giudizio si svolge in unico grado. È al momento però una disposizione meramente teorica, potremmo dire una disposizione di scuola, perché non esistono tuttora delle intese, non esistono tuttora delle regole procedurali che individuano il Collegio di Garanzia come giudice di merito. E probabilmente non esisteranno in futuro, perché se venisse emanata una regola del genere, evidentemente si rinuncerebbe a tutto il sistema di giustizia endo-federale. Io leggo piuttosto la norma del comma terzo dell'articolo 54 dei due codici di giustizia sportiva come una disposizione di carattere sussidiario o, se mi consentite, addirittura di carattere emergenziale. Diciamo che il legislatore domestico dello sport ha avuto l'occhio lungo nel cercare di prevedere, nel cercare di compendiare situazioni un po' al limite della normalità, un po' al limite della fisiologia procedurale. Oggi però noi ci occupiamo espressamente, ci occupiamo esclusivamente del contenzioso in senso stretto, quindi del contenzioso di carattere impugnatorio. E allora ciò detto mi permetto di proporvi quella scansione procedurale che ovviamente non si trova all'interno delle fonti, che non si trova all'interno dei manuali, ma per comodità, ma per analisi più comoda, più congeniale, io stesso ho proposto, quindi ho distinto tra fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisoria. Partiamo proprio dalla fase introduttiva. Vedete, il procedimento viene instaurato entro 30 giorni dalla data della pubblicazione della decisione da gravarsi. L'atto con cui si instaura il procedimento, l'atto incoativo è il ricorso, sottoscritto da difensore. E qui mi fermo, perché dalla norma si evince evidentemente che la difesa tecnica sia obbligatoria. Poi troveremo anche altre disposizioni nel prosieguo della nostra analisi che militano verso questa argomentazione. Ora, non rileva la data della comunicazione della decisione, che pure è sempre prevista allorquando si tratti di decisioni che romanano da un organo di giustizia sportiva endo federale, ma diversamente rileva, e questo è un aspetto molto importante, la data in cui la decisione, pur previamente comunicata in forma integrale alle parti d'ufficio, quindi a mezzo di email o di posta elettronica certificata, sia successivamente pubblicata sul sito internet. Ora, dal momento che viene in gioco, dal momento che risulta previsto un termine perentorio, ovviamente si potrebbe anche dubitare della congruità di questa disposizione, che rischierebbe anche di rendere un po' disaggevole l'individuazione della scadenza del termine di proposizione del ricorso. Noi dobbiamo un attimo, cari colleghi e cari colleghi, distaccarci dalle riflessioni che siamo soliti fare in termini strettamente processual-civilistici, perché l'ordinamento sportivo ha tutte peculiarità che sono divergenti da quelle dell'ordinamento dello Stato, dall'ordinamento processuale in senso ampio. Quello che dobbiamo però osservare è che la pubblicazione della decisione appunto sul sito internet della federazione e quindi il momento in cui questa decisione venga pubblicata sul sito internet della federazione, fa partire il conteggio dei 30 giorni per promuovere il ricorso. La copia del ricorso deve essere trasmessa alternativamente dal ricorrente alla parte intimata, cioè nei cui confronti esso sia rivolto, sia che diceva beneficio dal provvenimento impugnato medesimo e alle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio, e dalla segreteria del collegio unitamente al provvenimento di fissazione dell'udienza, alla federazione sportiva nazionale interessata che ha facoltà di intervenire o come vedremo comunque di depositare memoria e alla procura generale dello sport che ha facoltà di intervenire, di depositare memoria, ovvero di rassegnare conclusioni orali nel corso dell'udienza medesima. Naturalmente noi non possiamo rispondere di vizi dell'agire della segreteria del collegio. Quindi, se la segreteria del collegio non avrà provveduto alla trasmissione della copia del ricorso alla federazione sportiva nazionale interessata e alla procura generale dello sport, non vi saranno delle ripercussioni all'interno del giudizio o comunque delle ripercussioni sul piano dell'ammissibilità del ricorso. Certo, una criticità naturalmente ci sarà, una minima problematica si potrà verificare perché andremo incontro a un rinvio e questo ovviamente è quello che succede anche all'interno dei processi ordinari. all'interno dei giudizi, per così dire, dello Stato. Andiamo a vedere che cosa contiene il ricorso. Qui, come vedete, le norme un po' divergono dal punto di vista numerico perché siamo all'interno dell'articolo 58 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI e all'interno dell'articolo 59 del Codice di Giustizia Sportiva del Comitato Paralimpico. Quindi, il ricorso conterrà gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti esso sia proposto, l'indicazione dell'atto o della decisione impugnata, l'esposizione dei fatti essenziali alla decisione domandata, l'indicazione dei motivi, gli atti e i documenti rilevanti, le conclusioni e istanze di cui, previa riforma della decisione impugnata, è domandato l'accolidimento nei limiti di quelle già proposte davanti all'organo di giustizia che ha emesso la decisione impugnata. Quindi, in buona sostanza, il ricorso, come si evince, dovrà sempre mettere in condizione il collegio di garanzia di disimpegnare il proprio potere di emettere una decisione sostitutiva rispetto a quella per cui il gravame venga proposto. Tant'è vero che siamo al cospetto di una norma che ci ricorda le modalità di redazione del ricorso per cassazione, evidentemente. Poi, il ricorso deve contenere anche l'indicazione della procura al difensore che poi potrà essere allegata con atto separato. Qui è un po' criptico il codice di giustizia sportiva, però è ovvio che se si menziona la procura al difensore, parimenti poi si dovrà ammettere la sua allegazione al ricorso stesso. Mentre, invece, quanto alle allegazioni vere e proprie, si richiede di compiegare l'attestazione di versamento del contributo alle spese di giustizia sportiva, quindi l'attestazione appunto del contributo per l'accesso, un po' come il contributo unificato, e l'attestazione dell'avvenuto invio del ricorso agli altri destinatari che siano all'uopo contemplati dalla norma. Sono disposizioni la cui osservanza è prevista ai fini della ammissibilità, quindi sotto pena della inammissibilità del ricorso introduttivo. c'è tutta una giurisprudenza abbastanza restrittiva sia del Collegio di Garanzia dello Sport che del Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico che prescrive appunto l'osservanza di queste norme sotto pena di inammissibilità, quindi dobbiamo essere particolarmente attenti. Poi certamente in sede di discussione si potrà anche ampliare il contenuto delle nostre deluzioni. In sede di discussione nulla ci vieterà di menzionare ulteriore giurisprudenza, nulla ci vieterà di dare un'ulteriore profilazione descrittiva ai nostri motivi, alle nostre deduzioni. Ovviamente stante il principio di autosufficienza del ricorso che anche nell'ambito dell'ordinamento sportivo deve essere rispettato e deve essere osseguato, noi non potremo certamente ampliare il petitum, non potremo certamente ampliare le motivazioni, non potremo certamente formulare delle conclusioni ulteriori rispetto a quelle del ricorso introduttivo e ciò non è dissimile da quello che accade quando redigiamo un ricorso per Cassazione o magari riferendomi alle colleghe e ai colleghi non patrocinanti innanzi alle giurisdizioni superiori mi posso riferire al ricorso al cospetto del giudice del lavoro. Anche quello è un atto introduttivo particolarmente caratterizzato dal criterio dell'autosufficienza. La parte nei cui confronti il procedimento sia stato instaurato e le altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio possono difendersi in una duplice modalità o impugnando la decisione gravata però devono farlo sotto pena di inammissibilità non oltre la data della prima udienza della discussione e questo chiaramente è il caso della impugnativa incidentale oppure presentare delle memorie difensive quindi non a propria volta gravare la decisione queste memorie devono essere trasmesse alle rispettive controparti sotto pena di inammissibilità nel termine di dieci giorni dal ricevimento del ricorso introduttivo vediamo che cosa in particolare debba prevedere la memoria difensiva elementi identificativi della parte intimata e del suo difensore indicazione della procura al difensore e quindi anche in questo caso mi richiamo all'indirizzo di cui prima parlavamo cioè quello della difesa tecnica obbligatoria difese in relazione ai motivi di ricorso proposti dal ricorrente nonché conclusioni o istanze di cui nel caso della riforma della decisione impugnata e naturalmente nei limiti di quelle già proposte davanti all'organo di giustizia che l'abbia emessa si domandi l'accoglimento anche nel caso della memoria non viene menzionata l'allegazione della procura al difensore ma questo è evidentemente frutto di una cripticità forse di un errore se vogliamo di formulazione dei codici in ogni caso vengono previste soltanto fra le fonti di allegazione fra i documenti da allegare l'attestazione di versamento del contributo per l'accesso al servizio di giustizia solo in caso di impugnazione incidentale e l'attestazione del rinvio al ricorrente or dunque qualcuno potrebbe obiettare che non sia ben chiaro il senso della disposizione quando va a restringere le difese soltanto in relazione ai motivi di ricorso proposti dal ricorrente in realtà la disposizione è a mio modo di vedere ben chiara qui il codice di giustizia sportiva tanto nel caso del CONI quanto nel caso del comitato paralimpico ha introdotto una distinzione molto categorica molto fondamentale molto rilevante tra la mera difesa e l'impugnativa incidentale se la parte intimata intende semplicemente spiegare delle difese senza propria volta impugnare la decisione gravata non potrà tra virgolette andare al di là di quelli che sono i motivi di ricorso e quindi di quelle che sono le ragioni di gravame questo io ritengo sia molto apprezzabile e sia molto importante che le fonti l'abbiano appunto sottolineato l'abbiano detto per evitare di rendere per così dire fungibili anche dal punto di vista della tecnica defensionale l'appello incidentale e la memoria difensiva vengono tenute ben distinte fra loro e questo restringe anche un po' il contraddittorio questo va a rendere particolarmente segmentato particolarmente procedimentalizzato anche il contraddittorio anche perché il giudizio di cui stiamo trattando deve essere un giudizio veloce snello agevole considerate che tutta la giustizia sportiva è impermiata sulla celerità sulla velocità facendo una battuta così dovrebbe essere anche per la giustizia ordinaria ma noi avvocati sappiamo bene che ahimè questo non succede e andiamo a vedere la fase istruttoria laddove balza subito all'occhio come le decisioni del collegio vengono adottate in camera di consiglio ma previa pubblica udienza quindi tendenzialmente l'udienza del collegio di garanzia è pubblica il presidente del collegio potrebbe tuttavia qualora ricorrano delle circostanze eccezionali stabilire che l'udienza si svolga a porte chiuse anche qui mi fermo un attimo per chiarire l'ampia discrezionalità di cui gode evidentemente il presidente del collegio nello stabilire che una circostanza possa giustificare la celebrazione dell'udienza a porte chiuse aggiungo anche che la modalità di statuizione della tipologia di udienza quindi la modalità di statuizione della forma di celebrazione dell'udienza è insindacabile e quindi non può essere contestata in alcun modo dalle parti dai relativi difensori certo si richiede che la motivazione della statuizione della celebrazione di un'udienza a porte chiuse sia esplicita e sia congrua in ordine a quelle preordinate circostanze eccezionali circostanze che volutamente il codice di giustizia sportiva tanto del CONI quanto del comitato paralimpico non va a tipizzare per lasciare ampio margine discrezionale ampio margine di deliberazione al presidente nell'udienza i difensori delle parti e il rappresentante della procura generale dello sport possono illustrare le proprie rispettive conclusioni naturalmente nella discussione orale mi ripeto dico una cosa che già avevo espresso in precedenza non possiamo allargare il perimetro dei motivi oppure andare a porre ulteriori conclusioni possiamo certamente meglio configurare una profilazione dei nostri motivi possiamo certamente aggiungere perché no della giurisprudenza questo un po' è il fulcro e il cuore della discussione orale non essendo previste delle limitazioni di sorta si potrebbe affermare ed argomentare che le prove documentali articolabili nel giudizio al cospetto del collegio di garanzia possano essere anche nuove rispetto a quelle articolate nei gradi endo federali di giustizia perché perché fra le limitazioni di cui vi dicevo parlavo di una limitazione relativa al perimetro dei motivi e delle conclusioni nella normativa che stiamo analizzando non troviamo il divieto ius novorum che è un divieto che normalmente assiste tutte le fasi o meglio tutti i gradi devolutivi nell'ambito del processo ordinario quindi potremmo anche utilizzare potremmo anche articolare all'interno del ricorso delle prove che non abbiamo mai utilizzato all'interno dei gradi endo federali di giustizia e io ho un orientamento per esempio favorevole all'utilizzabilità di questi mezzi istruttori naturalmente parliamo soltanto di mezzi documentali perché sembrerebbe preclusa perché sembrerebbe non ammissibile la prova testimoniale teniamo conto del fatto che il giudizio di cui discettiamo non è un giudizio di merito non è un giudizio sul fatto evidentemente è un giudizio di legittimità e questa considerazione ci consente senza tema di smentite evidentemente di escludere l'ammissibilità delle prove di carattere testimoniale tendenzialmente dopo la conclusione della fase istruttoria il presidente della sezione giudicente quindi stiamo parlando del presidente del collegio davanti al quale siamo comparsi potrebbe proporre al presidente del collegio che la causa venga rimessa per la decisione alle sezioni unite per i rilevati profili di principi e di interesse sottesi qui non dobbiamo pensare al meccanismo che nell'ambito del giudizio al cospetto della Corte Suprema di Cassazione appunto regolamenta riguarda la devoluzione alle sezioni unite dove noi sappiamo che il presupposto è il contrasto fra sezioni oppure la sussistenza di una questione di massima tale per cui è opportuno creare un precedente forte che nell'ambito della valorizzazione della nomofilachia della Corte Suprema possa poi assurgere quasi a fonte del diritto positivo sappiamo che il meccanismo è questo invece all'interno dell'ordinamento sportivo vi sono meno vincoli nel senso che il presidente della sezione giudicente potrebbe anche semplicemente ritenere la questione di particolare importanza ma non necessariamente tale da compulsare un pronunciamento a sezioni unite come invece avviene all'interno del processo ordinario davanti alla Corte Suprema di Cassazione e quindi proporre al presidente al primo presidente del collegio la rimessione alle sezioni unite diciamo cari colleghe e cari colleghi che la rimessione alle sezioni unite è più agevole più snella meno vincolata da presupposti segnatamente specificamente previsti questo poi non esclude sin dall'inizio del contenzioso è un po' è il corollario di quello che vi stavo raccontando che la causa possa essere rimessa di iniziativa motu proprio quindi dal presidente del collegio alle sezioni unite quindi possono esservi anche dei contenziosi che nascono davanti alle sezioni unite che a origine vanno a finire davanti alle sezioni unite questo sempre alla luce di una ritenuta particolare sussistenza di interesse non però così pregnante come succede invece davanti alla corte di cassazione nel procedimento ordinario da parte del presidente del collegio or dunque anche la decisione di rimettere la causa al cospetto delle sezioni unite è insindacabile perché è una decisione attraverso cui si regolamenta attraverso cui si disciplina la procedura e quindi queste decisioni sappiamo bene che sfuggono a qualsivoglia tipologia di sindacato a questo punto andiamo agli esiti arriviamo poi alla fase decisoria quando viene assunta la decisione da parte del collegio di garanzia che può decidere nel merito se non siano stati necessari ulteriori accertamenti di fatto ovvero le parti ne abbiano fatto concorde richiesta entro il termine di chiusura della discussione orale indicando al procuratore generale dello sport fatti o circostanze nuovi che risultanti dagli atti del procedimento o dalla discussione appaiono connessi con gli ulteriori accertamenti necessari per il giudizio di l'invio o comunque irrilevanti oppure statuire l'inammissibilità dell'azione proposta al suo cospetto a che cosa ci riferiamo quando parliamo di decisione nel merito voglio specificarlo perché diversamente sembrerebbe una contraddizione in quello che ho testè affermato poc'anzi io continuo a dire e continuo a ripetere che il collegio di garanzia è un giudice di legittimità decidere nel merito vuol dire che il collegio stesso non necessariamente debba cassare e quindi debba rinviare a un giudice endofederale e a quella fattispecie che voglio fare riferimento anzi tendenzialmente quando può il collegio di garanzia non prolunga per così dire la procedura ma decide senza cassare senza quindi rinviare la decisione a un giudice endofederale naturalmente questo quando non siano necessari degli accertamenti di fatto o appunto le parti ne abbiano fatto concorde richiesta come vedevamo indicando al procuratore generale fatti o circostanze che abbiano carattere di novità quindi naturalmente il collegio di garanzia deve comunque attenersi a dei limiti altrimenti la sua discrezionalità nella tipologia di decisione da assumere diventerebbe sconfinata insomma rasenterebbe quasi l'arbitrarietà poi certamente il collegio di garanzia potrebbe anche decidere di rinviare la controversia al giudice sportivo in senso ampio naturalmente endo federale e anche qui vi dico un qualcosa che avvicina il giudizio al cospetto del collegio di garanzia al processo innanzi alla corte di cassazione al processo ordinario perché quando il collegio di garanzia rinvia la controversia al giudice sportivo endo federale enuncia specificamente il principio al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi naturalmente questa disposizione deve essere letta in combinazione con quanto viene previsto dal comma 3 dell'articolo 12 dello statuto del CONI dal comma 3 dell'articolo 12 bis dello statuto del CONI e dal comma 3 dell'articolo 12 dello statuto del comitato paralimpico ve lo leggo testualmente poi facciamo qualche riflessione quando il collegio di garanzia dello sport riforma la decisione impugnata decide in tutto in parte la controversia oppure la rinvia all'ordano di giustizia federale competente che in diversa composizione dovrà pronunciarsi definitivamente entro 60 giorni applicando il principio di diritto dichiarato in tal caso non sarà ammesso nuovo ricorso salvo che per la violazione del principio di diritto che vuol dire questo che diversamente da quanto avviene all'interno del processo ordinario non si può assistere all'interno dell'ordinamento giuridico sportivo a duplicazioni di giudizi di legittimità per così dire perché una volta che il giudizio sia stato rimbalzato al giudice endo federale e il giudice endo federale abbia deciso applicando il principio che il collegio di garanzia avrà indicato il nuovo ricorso avverso quella decisione del giudice endo federale è tendenzialmente inammissibile perché perché si potrà impugnare nuovamente davanti al collegio di garanzia quella decisione del giudice sportivo endo federale soltanto in caso di violazione del principio di diritto e anche questa disposizione non vi nascondo ha fatto un po' discutere ha suscitato un po' delle perplessità in dottrina c'è stato qualcuno che ha parlato addirittura di compressione dei diritti di difesa dei soggetti dell'ordinamento giudico sportivo io non ho per quanto rispetti quella tesi egual visione in quanto ritengo che se vogliamo davvero un processo effettivo rapido informato alla certezza del diritto dobbiamo iniziare ad evitare delle duplicazioni di procedimenti di procedure di legittimità quindi sono tra colori i quali benedicono questa disposizione e plaudono a questa disposizione già lo dicevamo ma lo ribadiamo lo dicevamo perché lo avevamo pescato un po' dal comma 3 dell'articolo 12 del comitato del comitato paralimpico ora lo vediamo anche all'interno dei rispettivi codici di giustizia sportiva il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di 60 giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti effettivamente gli atti del procedimento dal collegio di garanzia al giudice endo federale competente quindi è da quel momento che il giudice endo federale dovrà ovviamente pronunciarsi aggiungo anche per completezza espositiva per esaustività qual è il contegno delle parti davanti al giudice endo federale di rinvio come devono le parti appunto gestire il contenzioso davanti al giudice endo federale di rinvio beh secondo le regole di quella procedura noi sappiamo che ogni federazione ha il proprio codice di giustizia sportiva quindi una volta che la controversia transiti dal collegio di garanzia al giudice endo federale la regolamentazione di riferimento che dovrà essere seguita sarà appunto quella del rispettivo codice di giustizia sportiva quindi ci si dovrà uniformare ci si dovrà adeguare esclusivamente al codice di giustizia sportiva della federazione al cospetto del cui giudice endo federale del cui giudice domestico ci siamo ritrovati naturalmente la procedura sarà vincolata perché la procedura sarà rigorosamente calibrata sulla applicazione del principio di diritto che avrà indicato il collegio di garanzia questo è importante dirlo questo è importante sottolinearlo perché dobbiamo pensare che non vi sia una piena esplicabilità una piena declinabilità delle facoltà defensionali come se fosse un procedimento ex novo nato al cospetto del giudice endo federale no è sempre un procedimento che arriva che transita davanti a quel giudice endo federale dal collegio di garanzia e a questo punto ci dedichiamo anche un po' a una chicca che rientra nell'ambito della giurisdizione del collegio di garanzia dello sport non troviamo appunto questa procedura o se se volete se preferite questa sub procedura all'interno della struttura del collegio di garanzia dello sport paradimpico parliamo cioè dell'arbitrato per le controversie se vogliamo di carattere amministrativo io le ho volute così chiosare così definire tra federazioni sportive nazionali discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva siamo all'interno di una deliberazione del CONI la deliberazione 1622 del 2018 del consiglio nazionale del comitato medesimo e parliamo quindi di un arbitrato irrituale cioè regolamentato non già dalla legge e per l'appunto da altra fonte normativa accettata dalle parti della controversia nonché equitativo sia tendente ad una decisione compositiva della vite è idonea al raggiungimento di un accordo tra le parti anziché meramente aggiudicativa di ragione soccombenza in virtù di una rigida applicazione di principi giuridici perché nasce questa forma di arbitrato per evitare di mettere al di fuori degli organi di giurisdizione domestica dell'ordinamento sportivo controversie tra strutture se vogliamo esponenziali tra strutture che fanno parte del motore dell'impalcatura dell'ordinamento sportivo ecco perché io le ho volute definire un po' creativamente come controversie di diritto amministrativo all'interno dell'ordinamento sportivo le controversie in questione sono decise in modo collegiale o eccezionalmente su espressa ed unanime indicazione delle parti in lite unilaterale gli arbitri che formano il collegio in numero di tre uno per parte il terzo presidente prescelto concordemente dei due arbitri cosiddetti di parte vengono tratti dall'elenco dei componenti il collegio di garanzia vediamo cosa accade nell'arbitrato collegiale perché poi in realtà l'arbitrato monocratico che rappresenta una forma eccezionale in seno a questa procedura trae spunto e vede la necessità dell'applicazione delle norme dettate per l'arbitrato collegiale se la parte istante o la parte intimata oppure entrambe non dovessero disegnare gli arbitri di rispettiva competenza vi provvede all'uopo il presidente del collegio dopo aver assegnato alla parte inadempiente o alle parti inadempienti il termine di decadenza di tre giorni per provvedere alla disegnazione non effettuata entro i successivi tre giorni vedete i termini molto stretti se gli arbitri delle parti non propongono il presidente dell'organo arbitrale e allora in quel caso vi provvederà il presidente del collegio di garanzia entro sei giorni dall'ultima designazione or dunque la parte che intenda che voglia promuovere l'arbitrato difesa da avvocato quindi anche qui c'è la difesa tecnica obbligatoria evidentemente presenta il collegio di garanzia a mezzo di posta elettronica certificata entro il termine preventorio di venti giorni dalla violazione contestata istanza scritta convenzione delle tesi difensive articolazione di eventuali mezzi istruttori in cui si è designato nominativamente anche l'arbitro prescelto mentre nell'arbitrato monocratico pur in assenza di specifiche disposizioni è ragionevole reputare che distanza sia congiunta ad opera di tutte le parti in lizza evidentemente nei dieci giorni successivi al ricevimento della domanda di arbitrato la parte intimata fa pervenire alla segreteria del collegio e alla parte istante una memoria difensiva speculare a distanza eccessiva eppure indicativa del nome dell'arbitro designato che può altresì contenere una domanda che a propria volta la stessa ultima intenda rivolgere alla medesima prima nell'arbitrato monocratico in assenza di specifiche disposizioni è ragionevole reputare che non sia prevista la possibilità di depositare tale memoria difensiva perché naturalmente l'istanza iniziale è conduta quindi nella prima udienza si procede al tentativo di conciliazione sperito senza particolari formalità se la conciliazione è raggiunta si dà atto della conclusione dell'accordo nel verbale della seduta o in un separato documento allegato al verbale entrambi sottoscritti dalle parti e dall'organo arbitrale se c'è istanza arbitrale fondata su una pluralità di domande se la conciliazione è raggiunta solo per alcune di esse il giudizio arbitrale prosegue per le controversie relative alle domande non conciliate se invece non compaiano all'urienza una o entrambe le parti il tentativo di conciliazione si considera esperito con esito negativo ovviamente la mancata comparizione deve essere ingiustificata e in ogni momento della procedura ove ne ravvisi l'opportunità l'organo arbitrale può rinnovare il tentativo di conciliazione non ci sono limiti quantitativi al riguardo ove ritenga necessaria l'istruttoria l'organo arbitrale ammette o dispone d'ufficio nella stessa primudienza i mezzi istruttori di levanti o si riserva di provvedere con separata ordinanza può essere disposta consulenza tecnica d'ufficio e le parti possono nominare un proprio consulente quando il tentativo di conciliazione non riesca e l'organo arbitrale ritenga la causa matura per la decisione fisserà nel termine più breve possibile l'udienza nella quale le parti potranno svolgere oralmente le proprie difese poi se la natura della controversia lo richiede l'organo arbitrale potrà concedere termini per lo scambio di memorie difensive ed eventuali repliche all'esito dell'udienza l'organo arbitrale si riunisce in camera di consiglio ed emette immediatamente il dispositivo della decisione è un lodo provvedendo a darne comunicazione alle parti e riservandosi la pubblicazione delle motivazioni nei successivi 15 giorni teniamo conto che il lodo deve intervenire entro 60 giorni dalla data di costituzione dell'organo arbitrale le parti possono di comune intesa prorogare tale termine e nel loro definitivo che non è impugnabile l'organo arbitrale indica secondo il principio di soccombenza la parte o le parti tenute al pagamento delle spese di procedimento delle spese di difesa e dei diritti amministrativi stabilendo anche la proporzione stabilendo anche diciamo l'afferenza dei predetti importi in capo alle parti stesse da ultimo vediamo come in questo procedimento arbitrale possono essere richieste misure cautelari quando sussista un pericolo di danno grave è irreparabile e a un sommario esame sia possibile pronosticare una ragionevole previsione dell'esito favorevole della vita bene e io su questo vi ringrazio per l'attenzione ho terminato qualche istante prima proprio per dare la possibilità appunto di rispondere al questionario previsto grazie di cuore per l'attenzione buon buon questionario naturalmente grazie